La 52esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che sarà domenica prossima, coincide anche per noi a Bologna con la giornata del seminario. Una settimana molto importante è questa, un po' in preparazione a questa giornata. Stasera, martedì, due dei nostri seminaristi hanno presentato all'Arcivescovo la loro candidatura per il diaconato e il presbiterato. Domenica poi ci saranno in cattedrale alle 17.30 le istituzioni di lettori e accogliti. È un passo, un passo nella loro formazione, nel loro cammino, accompagnati dalla comunità del seminario, anche dalle loro parrocchie di origine e di servizio, dai parroci, da tanta gente, da tanti giovani che stasera sono stati qui per questa veglia di preghiera. L'invito dell'Arcivescovo è stato molto forte, ricercare la profondità, le radici, dove sono piantate le radici. È partito citando un breve brano di una poesia di Giovanni Paolo II. Non si tratta di sprofondare, si tratta di scoprire, per essere ben radicati. Ecco, credo che questo sia un invito che arriva a tutti noi. Giornata per le vocazioni significa ripensare, riflettere chi già vive una stabilità di vita, ritrovare queste radici. Chi ancora sta pensando, pensare appunto dove intende piantare queste radici. Quale volto darsi e quale risposta dare a quella chiamata che il Signore ha pensato a tutti. Quindi è un momento molto importante a tutti i livelli. Speriamo anche la giornata di domenica vissuta nelle parrocchie e poi con questo momento i Vespri e la celebrazione dell'Eucaristia, sempre preseduta dall'Arcivescovo in cattedrale, siano forti, momenti forti, occasioni non solo celebrative, ma proprio di riflessione e stimolo perché ciascuno cerchi questa profondità in nome del Vangelo.